... Amici, ci troviamo qui dopo la sfida tra Calcio Arancio e Anfield Road con Dattilo, dei Calcio Arancio ed Esposito degli Anfield Road Dattilo, miglior giocatore della partita Come ti senti? E' un po' stanco, abbiamo sofferto Una grande vittoria per voi, raggiungete la testa della classifica Battete quelli che erano primi con voi Sì, è stato un po' sofferto, però ce l'abbiamo fatto Anche una bella squadra Grande prestazione tua, cosa ne pensi? Un po' acciaccato Sei contento? Sì, sì, abbiamo fatto una bella prestazione Ma a mano stiamo andando sempre a migliorare Ambisce al titolo questo Calcio Arancio o no? Ci speriamo Ci speriamo Forza, forza Auguriamo un buon proseguo di campionato a Dattilo e lo salutiamo Ciao Ci richiamo invece da Esposito Sconfitta ma una grande prestazione tua Sì, un po' mareggiato Due errori del nostro portiere, però non fa niente Ci rifaremo Cosa ne pensi di questa partita? Sfortunati? Sfortunati non direi Diciamo che sono andati molto svogliati Svogliati Fisicamente avete retto? Abbastanza Molto bene fisicamente Purtroppo sono stati sfortunati C'è una condizione di due errori del portiere Ambite sempre La vittoria di questa campionata Noi giochiamo per vincere Se ci riusciamo bene Se perdiamo non fa niente Salutiamo Esposito Ottima prestazione Buonasera ragazzi